è una medicina naturale nella cura e nella prevenzione di alcune malattie che riguardano principalmente le donne. La medicina corrente spesso tende a curare questa medicina semplicemente somministrando dei farmaci, ma in realtà è possibile curarla, prevenire alcune patologie tramite l'alimentazione. Però diamo la parola agli autori dei libri che ci approfondiranno gli argomenti.